C'è stato un taglio deciso di tutti gli alberi che stanno qui in questo piazzale che è l'ingresso della città di San Marzano. Il motivo è un motivo dato dalla pericolosità di questi alberi, motivazione che è stata portata in Consiglio Comunale e dove ci sono state anche delle contestazioni, come è normale che sia. Durante la donanza consigliare si sia fatta chiarezza sulle motivazioni, sulla priorità dell'incolumità pubblica e dei cittadini, soprattutto a seguito dell'avvicinarsi della stagione invernale. Infatti proprio dalle notizie che si leggevano ieri sui giornali, il maltempo a Napoli è caduto un albero e ha schiacciato delle auto parcheggiate a Piazza Cavour, maltempo ad Angri dove sono stati sradicati degli alberi e la motivazione per cui siamo intervenuti riguardo alcuni alberi qui a San Marzano sul Sano per il quale poi sono state create delle polemiche che rappresentano un episodio triste per la cultura e per la società del nostro Paese. Infatti in Consiglio Comunale, richiamando la solidarietà che mi è stata espressa dai consiglieri, dai dipendenti, dai funzionari, da tanti cittadini che mi hanno scritto in privato, che mi hanno fermata per strada, che mi hanno telefonata, si è avuta la condanna unanime a questi atteggiamenti di odio sociale. Certo sono amareggiata e dispiaciuta per chi non ha espresso solidarietà, per chi ha marciato su false notizie che sono state diffuse a mezzo social. Una cittadina, la scorsa udienza, la scorsa adunanza del Consiglio Comunale, è venuta nell'aula consigliare e ha aggredito prima me verbalmente come sindaco e poi fisicamente il presidente del Consiglio Comunale, insomma perché era stata bistrattata. Io l'ho già perdonata come cittadina, come donna, l'ho già perdonata perché è semplicemente una vittima di notizie incomplete, di notizie false che sono state diffuse, di notizie che sono state strumentalizzate per diffondere odio sociale tra la popolazione. Addirittura posso dire che vi sono incitamenti assommosse, incitamenti assommosse, inviti a fare sorte di rivoluzioni. Questo non va bene.